la signora julie roubert stava aspettando la signora henriette lettoree sua sorella maggiore che era di ritorno da viaggio in svizzera la famiglia lettoree era partita cinque settimane prima la signora henriette aveva fatto tornare da solo il marito nelle loro tenute di calvadosse dove era richiesta la sua presenza per motivi d'affari lei andava a passare qualche giorno a parigi da sua sorella stava scendendo la sera nel salottino borghese quasi in ombra al momento del crepuscolo la signora roubert leggeva distrattamente sollevando gli occhi dal libro a ogni rumore finalmente suonò il campanello e fece la sua comparsa la sorella ravvoltolata in un ampio mantello da viaggio subito senza neppure guardarsi negli occhi si abbracciarono con forza sospesero l'abbraccio per un attimo e poi si abbracciarono nuovamente poi cominciarono a parlare contemporaneamente chiedendo informazioni sulla salute sulla famiglia e su mille altre cose con frasi rapide e tronche che rimbalzavano dall'una all'altra mentre la signora henriette si stava togliendo il cappello e la sciarpa di velo sarà fatta sera la signora roubert suonò per farsi portare una lampada e quando venne la luce guardò sua sorella accingersi a riabbracciarla ma restò stupita sgomentata le mancarono le parole la signora lettore aveva sulle tempie due grandi ciocche di capelli bianchi il resto della capigliatura era di un nero lucido e intenso ma ai lati si aprivano due ruscelli argentei che si perdevano subito nella massa compatta dell'acconciatura eppure aveva appena 24 anni e quella cosa era avvenuta all'improvviso dopo l'andata in svizzera la signora roubert l'osservava immobile e sterrefatta quasi sul punto di piangere come se un'improvvisa sciagura misteriosa fosse capitata alla sorella chiese che è successo henriette con un sorriso triste un sorriso da malata l'altra rispose niente niente hai veduto i miei capelli bianchi dimpeto la signora roubert la prese per le spalle e ripete mentre l'osservava impiatosamente che è successo devi dirmelo e senza bugie perché me ne accorgerai erano una di fronte all'altra pallida come se fosse prossima a svenire la signora henriette aveva le lacrime agli angoli degli occhi abbassati la sorella ripete ancora che è successo che hai rispondimi con voce spenta l'altra sussurrò oh ho un amante e affondò la testa sulla spalla della sorella minore scoppiando in singhiozzi appena si fu calmata appena cessarono gli spasimi del pianto cominciò a parlare senza controllo come per liberarsi da quel segreto per vuotare la sua sofferenza in un cuore amico tenendosi le mani e stringendosene le due donne andarono a sedersi nella parte in penombra del salotto su un canapè la minore cingeva con un braccio il collo della maggiore e se la teneva stretta il cuore mentre ascoltava ammetto di non avere scuse non riconosco più me stessa e da quel giorno mi pare di essere impazzita sta attenta piccola mia sta bene attenta se sapessi come siamo deboli come ci arrendiamo come cadiamo in fretta basta quasi niente davvero una cosa da nulla o poco pochissimo un languore una fuggevole malinconia dell'animo un bisogno di spalancare le braccia e accarezzare e baciare come noi tutte proviamo in determinati momenti tu conosci mio marito sai quanto lo ami ma lui è una persona matura e posata e non sa rendersi affatto conto delle tenere vibrazioni dell'animo femminile è sempre uguale sempre buono sorridente sempre premuroso sempre perfetto come avrei desiderato invece che certe volte mi avesse serrato all'improvviso tra le braccia dandomi uno di quei baci dolci e lenti che fanno una sola di due persone che equivalgono a tante confidenze silenziose quanto avrei voluto che avesse qualche momento di abbandono anche di debolezza che avesse bisogno di me delle mie carezze delle mie lacrime saranno sciocchezze ma noi donne siamo fatte così e non possiamo farci niente mai mi avrebbe sfiorato il pensiero che lo avrei tradito eppure l'ho fatto senza amore senza motivo senza un bel niente solo perché sul lago di lucerna c'era la luna era un mese che viaggiavamo insieme e mio marito con la sua imperturbabilità paralizzava i miei slanci soffocava i miei entusiasmi quando spuntava il giorno e noi scendevamo per le strade di montagna al galoppo dei quattro cavalli della diligenza e io battevo le mani alla vista delle lunghe valli del bosco dei fiumi dai villaggi velati appena da una trasparente nebbiolina e gli dicevo ah com'è bello caro dammi un bacio lui mi rispondeva con un sorrisetto di compiacenza freddo freddo e scrollava le spalle che bisogno c'è di baciarsi quando ti piace il paesaggio sentivo che stavo diventando di ghiaccio infatti sono persuase che quando ci si vuol bene uno dovrebbe desiderare di volere ancora più bene all'altro di fronte a uno spettacolo che emoziona insomma provavo dentro l'animo una tensione poetica che mio marito mi impediva di render concreta come spiegartelo ero quasi come una caldaia piena di vapore ma chiusa ermeticamente da quattro giorni eravamo in un albergo di Fluellen e una sera Robert andò a dormire subito dopo cena poiché aveva l'emicrania io me ne andai sola soletta a fare una passeggiata lungo il lago era una notte di fiaba la luna tonda tonda si mostrava in tutta la sua bellezza al centro del firmamento le altre montagne sembravano incappucciate con l'argento delle nevi l'acqua tutta increspata era percorsa da lievi brividi di luce l'aria dolce aveva quel tepore che il languidisce fino a farci svenire e ci commuove senza motivo com'è sensibile l'anima in questi attimi e come vibra come cattura ogni minimo trasalimento mi sedetti sull'erba osservare il gran lago malinconico e pieno di fascino era in preda una strana infatuazione avevo bisogno d'amore e non sapevo saziarmi volevo ribellarmi al piatto rigore della mia esistenza non sarei mai andata al braccio di un uomo veramente amato lungo un fiume immerso nella luce solare non avrai mai sentito la vibrazione in me di baci profondi delicati e conturbanti che vengono scambiati nelle tenere notti fatte da dio per l'amore non avrai mai provato la stretta di due braccia ardenti fra le precise ombre di una sera d'estate cominciai a piangere come una pazza udì un rumore alle mie spalle un uomo in piedi mi stava osservando quando girai il capo mi riconobbe e si slanciò in avanti piangete signora era un giovane avvocato che viaggiava insieme alla madre e che noi avevamo incontrato più di una volta ero stata seguita spesso dallo sguardo di lui ero sconvolta al punto da non riuscire a rispondere né a formulare qualche pensiero mi alzai e dissi che mi sentivo male cominciò a camminarmi accanto in modo naturale e rispettoso e a parlarmi del nostro viaggio tutto quel che io avevo presentito lui lo esprimeva tutto quel che mi aveva dato brividi di piacere lui lo aveva capito anche meglio di me all'improvviso cominciò a recitare dei versi di musè avevo la gola serrata da un'emozione indicibile mi parve che anche le montagne il lago la luce della luna cantassero motivi dolcissimi è successo dunque non so come né perché in una specie di allucinazione e per quanto riguarda lui la mattina dopo al momento della partenza l'ho riveduto mi ha dato il suo biglietto da visita la signora Lettore abbandonata tra le braccia della sorella gemeva la signora Roubert seria e pensierosa disse allora sottovoce sai sorella mia vogliamo bene all'amore è stato il chiaro di luna quella sera il tuo vero amante è stato il chiaro di luna è stato il chiaro di luna grazie a tutti grazie a tutti